Perché con Michela c'è stata una conoscenza personale qualche anno fa in occasione della penultima edizione del campus giornalistico Roberto Morione che organizzavamo a Ovada per gli studenti delle scuole superiori. Già allora mi aveva colpito per la sua competenza, la sua professionalità, il suo entusiasmo e la sua grande già conoscenza non solo delle varie forme di comunicazione e di giornalismo, ma proprio sui temi specifici che a noi interessano, quindi criminalità organizzata, carcere, minori, legalità, corruzione eccetera. Il curriculum di Michela che forse in gran parte, la maggior parte di voi avrete ricevuto o comunque che abbiamo cercato di condensare in un comunicato stampa, è un curriculum impressionante malgrado la sua giovanissima età e davvero lei in questi anni ha già messo da parte una quantità e qualità di esperienze, sempre nell'ambito del giornalismo notevole, passando dalla carta stampata, dal venerdì di Repubblica al manifesto, altre testate giornalistiche, alla televisione, lavorando in particolare per la trasmissione Report che tutti conoscete di Rai 3 per alcuni anni, per poi passare all'esperienza della radiofonia con la Rai e adesso diciamo lanciarsi in questa nuova avventura, non so, non direi comunque, nuova esperienza lavorativa a cui faceva cenno anche lei prima del podcast. Però prima di entrare nel merito dell'incontro per come l'avevamo pensato anche noi organizzatori, che vorremmo cercare a partire dall'incontro che c'è stato a novembre con Marco Mizzolo fino a giugno, quando concluderemo, di avere come interlocutori, come relatori, giornalisti, professionisti che abbiano espletato la loro attività in campi diversi, che possano offrire punti di vista differenti l'uno dall'altro. Diciamo che prima di lasciare appunto Michela libera di raccontarci la sua esperienza, ho una curiosità che credo molti di voi coindivideranno. Siamo, diciamo, tempestati da queste ultime settimane da un livello di comunicazione direi quasi eccessivo, non so, ossessivo, ecco, a seguito della cattura, dopo 30 anni di latitanza, di Matteo Messina Denaro. Io personalmente sono rimasta anche quasi infastidita, ecco, dall'insistenza di certi media, soprattutto televisivi o giornali su certi particolari, eccetera, e in generale mi sembra che si siano usate, si continuano ad usare da una parte toni molto enfatici, oppure dall'altra invece critiche e toni, come dire, riduttivi, ma non cambia niente, non è successo niente, in realtà tutto sarà come prima. E quindi ho proprio questa curiosità di sentire cosa ne pensa una professionista, con l'esperienza che ha già Michela, del racconto che i media in generale stanno facendo rispetto a questa vicenda. Allora, prima di tutto grazie per avermi regalato questo tempo insieme a voi, mi fa molto piacere essere qua, soprattutto perché non vedo l'ora di confrontarmi con voi, al di là di quello che posso raccontarmi della mia esperienza, proprio perché penso che un giornalista poi esiste, perché esiste chi lo ascolta, chi lo legge, se no altrimenti non avremmo senso esistere, sapere cosa voi, come voi percepite le storie che decidiamo di raccontare, ci aiuta a raccontarle sicuramente meglio, quindi insomma per me è tutto grazie. Poi rispetto a quello che diceva Paola, mentre ti ascoltavo Paola stavo pensando al giorno dell'arresto, al 16 gennaio, che è un ricordo personale di quel giorno, che secondo me spiega un po' come... Allora la premessa è che io ho lavorato principalmente nell'approfondimento, ho lavorato per il venerdì, che è un giornale che è un settimanale, per cui non lavora sulle news, ma su pezzi appunto di approfondimento, ho lavorato per Report, che è approfondimento per eccellenza, perché è anche inchiesta, e adesso dico le cose più importanti, ho lavorato per Radio 3, per due programmi come tutta la città ne parla, che è vero un quotidiano, però comunque ha un taglio piuttosto interpretativo della realtà che ci circonda, cioè non si basa, voglio prendere una news di attualità, però poi ci fa un lavoro, insomma va col microscopio sopra, ecco. Quindi la mia attitudine è sicuramente quella di approfondire la complessità delle cose. Dopodiché per una serie di questioni che non vi racconterò, perché sono piuttosto noiose, sono finita a lavorare nelle news. Per due anni ho lavorato al giornale radio, nella redazione della cronaca, che è la news per eccellenza, perché la radio deve essere veloce, più veloce degli altri, perché non hai la pesantezza delle immagini, puoi raggiungere chiunque al telefono, per tutta una serie di ragioni, perché la cronaca fra tutte le redazioni è quella dove succedono più cose, cioè ovviamente una quantità di eventi sciagurati generalmente, tra calamità naturali, omicidi, processi, cronaca nera e cronaca giudiziaria. Qui è un'attività continua e costante, che mi ha insegnato moltissimo, mi ha dato la possibilità di vedere le cose da un punto di vista che io non avevo mai sperimentato, ma non vedevo l'ora di andare via, nel senso che comunque non era il mio, è stato fondamentale per la mia carriera farlo, ma mi sentivo comunque limitata, ecco, questo sentivo, sentivo il limite, che era il limite primo temporale, cioè il fatto che tu devi raccontare le cose in un minuto, quindi racconti soltanto il fatto che è appena accaduto, difficilmente puoi fare un'analisi o comunque sentire più persone. E poi c'è il limite della tempestività con cui tu devi scrivere il pezzo, che non ti dà, se un omicidio accade alle 18.16 e alle 18.20 tu devi essere già in onda, cosa volete che vi diciamo, se non quello che c'è, è difficile non riuscire a entrare nello stomaco della storia. Quindi poi a un certo punto sono riuscita a coronare già il mio sogno professionale, che era iniziato a Londra nel 2019, ovvero di lavorare sull'inchiesta e sull'approfondimento. Adesso vi ho fatto questa premessa per farvi capire questo ricordo personale del 16 di gennaio. Allora io ero a casa, mi stavo asciugando i capelli e mi ha chiamato il mio caporedattore dicendomi che avevano arrestato Matteo Messina Denaro, a me mi ha preso un colpo, perché comunque non era una cosa che ovviamente mi aspettavo. Mi sono precipitata in redazione a Saxarubra e io in questo periodo sto lavorando ad un podcast particolarmente importante che si chiama Agli Ammutati, di cui poi vi parlerò meglio magari, la prima puntata è già online, che è un podcast appunto che racconta di fatti legati a Cosa Nostra e non c'entra assolutamente niente con Matteo Messina Denaro. O meglio, diciamo che Matteo Messina Denaro c'entra un po' con tutto, per cui alla fine, però non ne parlo in maniera esplicita, le storie non riguardano lui in maniera diretta. Quindi io vado tutti i giorni in redazione e sostanzialmente mi occupo di scrivere questa seconda puntata, che è molto complessa, è una storia particolarmente difficile, perché appunto è la storia, immagino molti di voi la conosceranno, della morte del poliziotto Nino Agostino, ucciso il 5 agosto del 1989, insieme a sua moglie da Castelluccio. Per cui io vado lì tutti i giorni, sto nella mia stanza molto in pace, cioè non sono toccata dagli eventi esterni, e ragiono su come raccontare una storia così complicata, che sostanzialmente è il grande e complessissimo rapporto tra Cosa Nostra e i servizi segreti. Quel giorno io non potevo più fare questo, perché l'avevano arrestato Matteo Messina Denaro, che è un fatto che mi riguarda, perché ovviamente io mi occupo di criminalità organizzata, quindi non è una cosa che non mi riguardava, ero anche un po' curiosa. Però dopo i primi dieci minuti, già avevo capito com'era l'andazzo, e già mi ero un po' scocciata di dover mollare il mio lavoro, che è un po' come un figlio, e dovermi dedicare a un racconto, cercando di dare una mano ai colleghi che lavoravano appunto nelle trasmissioni, eccetera, però cercando di dare un contributo che fosse comunque uno sguardo critico, ma non critico nel senso negativo, critico proprio di non raccontare soltanto i particolari della cronaca, perché poi questa roba è durata giorni, dura ancora il primo giorno, praticamente H24, tutte le trasmissioni di Radio 1, per la radioinformativa della RAI, hanno parlato di questo. Come parli per 12 ore della stessa cosa, cercando di variare? che non è facile, devi variare gli ospiti, devi variare i punti di vista, devi fare tutto, è molto complicato a livello autoriale, no? Allora io ho cercato di dare un po' il mio contributo, però poi sono tornata a casa sfranta, e mi sono accorta di come anche un evento, che riguarda i miei interessi, che sono quelli appunto relativi a cosa nostra, eccetera, raccontato con l'angoscia e la fretta, come dire, l'ingordigia dell'attualità della cronaca, era una cosa che non mi soddisfaceva, cioè non mi dava molto, perché mi sembrava che non arrivassimo veramente al punto, e credo che poi al punto ci si arrivi sempre un po' dopo, per cui è molto bello andare nei posti, quando succedono le cose, dopo un po' che sono successe, dal mio punto di vista, e tante volte lavorando in cronaca, mi è successo di andare su un posto, il giorno dell'omicidio, del terremoto, e ovvio lì è un impatto emotivo fortissimo, però quello che lo situisci a chi ti ascolta, è appunto un'informazione di pancia, un'informazione legata molto all'evento, e alle sensazioni che si provano. Quando tu torni dopo tanto tempo, e mi è successo perché ho fatto un podcast, che per me è stato straordinario farlo, che si chiama Come un castello di carte, ed è un podcast sulla tragedia di San Giuliano di Puglia, dove morirono dei bambini, si disse per un terremoto, ma in realtà il problema non era il terremoto, ma era la costruzione della scuola, che non era fatta secondo le norme di legge. Ecco, io là sono tornata dopo vent'anni, sono stata cinque giorni con questi genitori, ho vissuto nelle loro case, ecco posso dirvi che il racconto è stato completamente diverso. Quindi giusto per rispondere alla domanda di Paola, qual è il punto? Il punto è che noi non siamo più abituati, nell'ultimi forse dieci anni, al fatto che la criminalità organizzata possa essere una news, perché nessuno ne parla più. Per questo ci ha sorpreso così tanto Matteo Messina Denaro, perché la mafia non è più nell'agenda dei giornali o dei telegiornali, al massimo le operazioni quelle più grosse, dei Ross, dei Carabinieri, penso a Rinascita Scott, penso ancora ai grandi processi, oppure gli uomini, no? Gratteri, allora si racconta l'uomo così. Però finite, come dire, le stragi probabilmente, dagli anni 2000 in poi, il racconto della mafia non è stato più un racconto della quotidianità, e quindi non sappiamo più bene come farlo. Cioè non c'è un... E' quello che succede, succede, che diventa show, come tutto il resto. E' per questo che lo percepiamo in maniera così fastidiosa. Diventa uno show in cui ci sono i buoni, in cui ci sono i cattivi, perché poi l'informazione tende a fare questo per semplificare, per arrivare in maniera più veloce. Allora, c'è il buono, c'è il cattivo. Cioè si lavora per dicotomie molto rigide, molto... E' ovvio che la realtà è complessa, la realtà è fatta di sfumature, la realtà legata a cosa nostra è la gestione dei collaboratori di giustizia, la gestione dei processi sulle stragi, il processo sulla trattativa Stato-mafia, sono cose complesse, in cui, lo vediamo bene, non ci sono i buoni e i cattivi, perché come facciamo a sapere nel processo Stato-mafia chi è i buoni e chi sono i cattivi? Lo Stato? Cosa nostra? Difficile. Cioè ci vuole tempo, per raccontare la complessità ci vuole tempo, bisogna prenderci il not-get, dobbiamo concederci il tempo di comprendere, noi giornalisti, e poi spiegare. E purtroppo quando le cose accadono e bisogna creare questa informazione costante, continua e un po' ossessiva, si finisce per essere invece molto frettolosi e c'è questa forma di spettacolarizzazione, allora lo champagne, il viagra nel copo, cioè tutti questi dettagli di cui portanti, forse sì, perché probabilmente sono comunque dettagli di cronaca, ma è evidente che noi abbiamo bisogno di sapere altro e temo che il resto verrà dopo, ecco, ci vorrà un po'. Ma ecco, rispondendo alla mia domanda, Michela mi sembra che tu abbia già toccato alcuni punti essenziali, ecco, del nostro ragionare e voler approfondire sul tema in generale dell'informazione. Uno è quello della mancanza di tempo, della fretta, della necessità di essere così patologicamente veloci, per cui poi le notizie si sostituiscono, una all'altra, si sovrappongono e cancellano quelle precedenti senza che sia stato possibile nessun tipo di approfondimento. No, è che si cancella la causa-effetto, cioè se tu cancelli il precedente non c'è più, sembra tutto successo per caso, ma non è così. Cioè, faccio un esempio banale, è ovvio che la prima cosa che a me è venuta in mente appena sono arrivati in redazione il 16 gennaio è stato bisogna sentire immediatamente scarpinato e chiedergli dell'ergastolo stativo. Cioè, per me era quella una delle chiavi, no? Perché l'Italia ha contestato, credo sia stato a fine dicembre, che sia stato convertito in legge il decreto, no? Ma i giornali, voi avete, sinceramente, ve lo chiedo, magari io non sono stata attenta, ma avete avuto una, come dire, l'impatto con la notizia dell'ergastolo stativo, vi ha svegliato? Perché io no, cioè io lo conoscevo perché ovviamente ho un rapporto in questo momento privilegiato con questo tipo di notizie, ho seguito la dichiarazione al Senato, eccetera, eccetera, mentre veniva approvato. Però non penso che l'Italia abbia coscienza di quello che sia accaduto con questa approvazione, che cosa significa questa nuova legge, che cosa è successo. Ecco, cioè, questo mi domando, e invece quel giorno in cui si è stato Matteo Messina De Naro, noi dobbiamo sapere che se Matteo Messina De Naro decide di collaborare, che tipo di incentivi ci sono per lui. Non ce ne sono più, la verità è questa. Ecco, e poi molto interessante, ma al tempo stesso sconfortante, quello che tu dicevi sul fatto che passato il periodo delle stragi, forse ancora per qualche anno dopo c'è stata attenzione, forse particolarmente al nord, perché comunque c'è stata un'ondata di inchieste e di processi dalla Lombardia al Veneto, all'Emilia Romagna, alla Liguria, che hanno un po' scoperchiato tutta una serie di vasi di Pandora, e almeno io probabilmente perché sono dentro Libera, queste cose le ho seguite con attenzione, però insomma, c'è stato si è parlato, ecco, quantomeno, si è scritto, ci sono state approfondimenti giornalistici, eccetera, ma delle mafie tradizionali, chiamiamole così, Camorra, Cosa Nostra, Andrangheta, dal momento in cui hanno quasi smesso di sparare e di fare morti ammazzati, non si è parlato più, e questo è davvero un dato sconfortante e preoccupante, ecco. Sì, è un dato sconfortante, ma non ci si può fare poco, nel senso che, o meglio, se la domanda è forte, è ovvio che anche io ho paura che proprio da parte della, purtroppo, diciamoci la verità, da quando esistono i giornali online, gli editori sanno perfettamente cosa le persone vogliono leggere, cosa leggono di più, e producono quello che fa più click, che sicuramente non è un articolo su Matteo Messina Denaro, demo, e quindi, l'editore è vero che è un giornale, ma è pur sempre merce, cioè comunque va venduto, e come, quindi si deve, comunque questo è un'impresa, bisogna che faccia degli utili, e poi è ovvio che un giornale è anche una missione editoriale, io posso parlare del servizio pubblico, perché grazie al cielo può avere meno assili da questo punto di vista, per le ragioni che lo contraddistinguono, e allora, io che lavoro per il servizio pubblico, sento la responsabilità sulle mie spalle di andare a fondo a determinate questioni, cioè non posso, non posso girarmi dall'altra parte, non posso spettacolarizzare a nessun tipo di notizia, non posso, non posso tacere, non posso tacere un certo tipo di racconto della complessità, a costo magari anche appunto di, certe volte, di risultare noiosa, perché poi purtroppo siamo in una società in cui tutto deve essere veloce, deve essere semplice, è ovvio che tu sei lente, sei complessa, sei un outsider, cioè non vai bene, però io sono convinta che invece valga la pena farlo, e posso dire una cosa, giusto per tornare al motivo per cui sono qui a parlare con voi, la radio lo fa molto meglio di altri mezzi, secondo me, ed è il motivo per cui io l'ho scelta, cioè è ovvio che la televisione, soprattutto il report, dove io ho imparato il mestiere, è un posto assolutamente, come dire, dignitoso, e fa un lavoro di grande valore, no? Però il concetto della TV è che in un modo o nell'altro è tutto uno show, anche il migliore dei show, ma comunque uno show, la radio invece riesce a raccontare in maniera un po' sottovoce, e quando dico sottovoce non è in modo remissivo, ma in maniera un po' più ordinata e non appunto urlata, la realtà che ci circonda riesce a raccontare l'intimità di certe storie, magari che non sono esclusivamente legate alle grandi operazioni giudiziarie, o magari sono legate alla criminalità organizzata, ma lo sono da un punto di vista personale, cioè la storia di Nino Agostino è una storia che ha molti lati intimi e personali, quando sono andata in Sicilia a parlare con Flora, sua sorella e col papà Vincenzo, purtroppo non ho fatto in tempo a conoscere la sua mamma, è stata un'esperienza umana incredibile, e sono sicura che l'audio come mezzo riesce a raccontare con una delicatezza che non ha uguale il valore di quelle voci, perché poi le voci diventano personaggi, è una cosa molto bella questa, rinunci ai visi, rinunci alle immagini perché le immagini sono tutte nella tua testa, cioè l'audio crea immaginazione, questa cosa è una cosa straordinaria, stimola l'immaginazione perché tu con la tua immaginazione devi riempire i vuoti che sono lasciati della mancanza di immagini, e questo ti fa vivere in un universo straordinario, cioè sei tu che sei coautore di quello che stai ascoltando, perché è come leggere un libro, non ci sono immagini, è tutto nella tua testa, allora magari leggiamo che ne so, cime tempestose e i protagonisti io li immagino in un modo, Paola magari li immagino in un altro modo, vediamo il film, è ovvio che il protagonista è quella, ce l'immaginiamo in quel modo, ecco l'audio ti permette di vivere le cose in una maniera molto più profonda e molto più speciale secondo me, e questo è il motivo per cui poi ho deciso di mollare tutto, di andare in Inghilterra e di studiare le tecniche giuste per poterlo raccontare e adesso mi accorgo facendolo che è assolutamente stata la scelta più giusta per certi tipi di storie. Io non so se devo andare avanti a ruota oppure se volete fermarmi qualcuno, non so. No, no, io ti lascerei anche andare avanti a ruota visto che ti sei interrotta ti invito semplicemente a riprendere proprio da questo, cioè raccontarci descriverci se vuoi nel tuo percorso anche di formazione in contemporanea con l'esperienza lavorativa quali sono le differenze che hai riscontrato tra i diversi mezzi. Hai cominciato con la carta stampata poi la tv e poi la radio e nel frattempo ci hai messo un bel pezzo di formazione a Londra quindi per te ma anche in generale ecco le differenze che hai trovato tra questi tre mezzi. Ma allora sicuramente come già ho detto la televisione è quello il mezzo in assoluto più che mi per cui forse sono stata almeno portata nel senso che mi è sempre molto piaciuto lavorare dietro la macchina però la narrazione televisiva è una narrazione appunto che deve stare su dei ritmi e delle come dire proprio delle quasi delle trame no? e c'è un racconto che inevitabilmente è più superficiale per forza di cose cioè è così però conosco colleghi straordinari che lavorano in tv che raccontano delle storie molto interessanti anche con la televisione è ovvio che non so faccio un esempio ho fatto una bellissima inchiesta con Alberto Nerazzini che è uno dei più bravi giornalisti in inchiesta quando ancora lavorava al report su uno scandalo finanziario dei frati minori dei capuccini insomma una roba incredibile che vi invito ma non perché lo collaboro ma perché l'ha fatta Alberto e veramente vale la pena si chiama i poverelli la trovate sul sito di report ecco quella è una cosa che è particolarmente interessante per come viene raccontata perché poi il problema qual è? che quando si fa inchiesta è difficile fare inchiesta perché è difficile spiegarla l'inchiesta perché rischia di essere noiosa rischia di essere molto fredda per chi deve leggere ascoltare o vedere quindi devi trovare dei modi per essere interessante non è facile in quel caso la narrazione di Alberto è talmente efficace che sembrava che tu vedessi un film che poi è quello che io provo a fare facendo i podcast c'è una bellissima un vecchio articolo della BBC che parla della differenza tra i podcast e la radio e quando parla dei podcast dice i podcast sono cinema per le orecchie ed è vero è così c'è un'attenzione tecnica alla costruzione dell'audiodocumentario allora aspetta faccio una premessa perché altrimenti potrei non essere compresa c'è una gran confusione sui podcast allora il podcast non è un genere il podcast è una forma è una forma di contenuto audio che viene trasmessa online ok quello che tu ci vuoi mettere dentro e come questo podcast lo vuoi fare sono fattacci tuoi però sempre podcast si chiama ok allora io tendenzialmente faccio audiodocumentari che è un genere ed è un tipo di podcast che sono appunto vabbè gli audiodocumentari riconosciuti tutti non devo spiegarvi cosa sono la maggior parte dei podcast soprattutto in questo momento in questo boom italiano sono di autori che semplicemente raccontano delle storie al microfono e basta cioè non hanno degli inserti audio importanti di archivio non hanno interviste originali sono storie ben scritte talvolta talvolta no dipende in cui un autore accende preme rec registra per mezz'ora e poi spegne e lo manda online oppure persone che parlano fra loro quindi delle lunghe conversazioni a proposito di qualcosa questi sono dei podcast che io non ho mai fatto per cui non so nemmeno se mi piacerebbe farli io lavoro sull'audiodocumentario che è tutta un'altra è tutta un'altra questione perché c'è un lavoro di attenzione nella costruzione tecnica di quello che faccio incredibile di montaggio no perché perché deve essere cinema per le orecchie cioè io vi devo raccontare una storia facendovi vivere tutte le emozioni di quella storia e quindi lavorando sul vostro inconscio perché quello che fa il suono e che secondo me secondo alcuni studi insomma che ho fatto in Inghilterra non fa l'immagine è che il suono lavora sull'inconscio cioè noi abbiamo un rapporto col suono fin da quando eravamo nella pancia delle nostre mamme che ha a che fare con la memoria cioè quando probabilmente ci sono stati degli esperimenti di alcuni bimbi che ascoltavano una determinata canzone di musica per esempio classica dentro la pancia della mamma ascoltandola un anno un anno e mezzo la madre ha visto nell'espressione di quel bambino quello che viene chiamata recollection cioè il ricordo di qualcosa allora il ricordo attraverso il suono perché il suono ci porta a qualcosa di arcaico che abbiamo dentro di noi questo sembra che non abbia niente a che fare con il giornalismo ma in realtà sì perché per raccontare una storia e farla veramente arrivare devi coinvolgere chi ti sta ascoltando anche a livello emotivo e farti aiutare dai suoni e usarli in un certo modo che non è il modo lì da scalico cioè parlo del fiume faccio sentire l'acqua dico è suonata la campanella e faccio sentire la campanella perché poi quello non sorprende nessuno è veramente incredibile cioè io se vi fa piacere di ascoltare gli ammutati che è questo prodotto in cui ho lavorato moltissimo e sto lavorando molto c'è una prima puntata su replay sound che è un podcast che racconta le storie alcune storie di uomini e di donne che sono stati uccisi perché hanno rivelato delle verità o stavano per rivelare delle verità troppo pericolose e sono tutti omicidi legati a Cosa Nostra ma legati anche ai servizi segreti mi sono chiesta come raccontare con i suoni questa cosa cioè avrei potuto fare come si fa d'altronde in generale di accendere il microfono e raccontare questa storia e spegnerlo però non sarebbe stato efficace allora mi sono chiesta quali sono i suoni che evoca questa storia di mistero che quando io penso a Cosa Nostra quando penso alla Sicilia cosa mi viene in mente a livello sonoro allora ho fatto un lavoro su me stessa per cercare di mettere in fila le cose che mi portavano lì allora ho lavorato sul sussurrato su una preghiera ho lavorato sulle cicale cioè ho fatto tutta una ricerca sonora aiutata poi da un bravissimo regista e da un musicista che compone i suoni per me che hanno reso quella puntata secondo me molto più efficace di una storia raccontata in tv o raccontata sulle pagine scritte perché io sto prendendo l'ascoltatore e lo sto dalla giacchetta e lo sto mettendo dentro un mondo un universo intero che è l'universo sonoro quindi questo per me questa è la grande differenza tra la tra la carta stampata la tv e la poi un'altra cosa molto importante è che per l'inchiesta fare i podcast di inchiesta è difficile perché perché l'inchiesta devi spiegare molte cose con l'audio ti distrai facilmente quindi devi lavorare un po' per sottrazione devi cercare di dare quelle giuste informazioni non darne troppo altrimenti le persone staccano il cervello e non ti seguono più l'inchiesta ha tante informazioni quindi c'è un lavoro di selezione difficilissimo che è quello che io adesso sto facendo per esempio per la puntata di Agostino dove c'è una richiesta di ordinanza di 1088 pagine e quindi riassumerla in un'ora di podcast non è semplice e questo lo rende difficile però l'audio ha una grande caratteristica che è quella di essere più convincente perché ti devi rilasciare un'intervista rispetto alla televisione cioè se tu devi entrare in un luogo complesso diciamo non so penso a un ospedale penso a un carcere penso a semplicemente una famiglia che ha avuto un lutto perché ci sono vari tipi di complessità entrare con un microfono è molto diverso di entrare con una telecamera per cui le persone sono molto più predisposte a dimenticare che stanno facendo un'intervista e a parlare con te come se stessero chiacchierando con un amico o comunque una persona con cui si vogliono aprire questo rende il podcast molto più intimo perché non c'è l'elemento visivo a influenzare chi sta raccontando la sua storia c'è proprio un rapporto con la parola con la voce con il sentimento che è straordinario e viene fuori cioè fare le interviste col microfono e basta io ne ho fatte per tutti i media in cui ho lavorato è completamente diverso rispetto alla tv in cui ti devi portare la telecamera certe volte la vorresti cioè vorresti rompere perché ho questa cosa dietro come quando devi entrare in un posto anche quando facevo il giornale radio adesso lasciamo perdere le inchieste ma se dovevo entrare in un posto e dovevo raccogliere delle voci un'informazione delle voci anche rubate con un microfono era molto più semplice cioè non si vede nemmeno lo puoi tenere tra virgolette quasi in borsa cioè in borsa no perché devi avere le cuffie per regolarti con il volume però voglio dire è tutto molto più semplice le produzioni audio sono molto più economiche delle produzioni video cioè non c'è niente da fare comprare un buon microfono e un buon registratore costa meno di comprare una buona telecamera è così e lo posso dire perché appunto avendo fatto entrambe le cose ed è stata stata freelance anche perché in entrambe le situazioni quindi non avevo diciamo il materiale tecnico fornito dall'azienda per cui lavoravo quando stavo a Londra ero lì da sola ho fatto questa follia di autofinanziarmi un altro studio a 30 anni dopo che insomma già lavoravo da parecchi anni però ho dovuto smettere di lavorare e lì mi arrangiavo in qualche modo da sola facevo delle cose anche molto belle cioè con un con un lavoro che ho fatto a Londra scritto e tra Londra e l'Italia quando poi sono rientrata per il covid e montato in una stanzetta perché eravamo tutti chiusi in casa nella primavera del 2020 incredibilmente ho vinto il Pri Europa e l'ho fatto completamente da sola perché non potevo vedere nessuno e proprio perché sapevo era un radiodramma quello proprio perché sapevo che non potevo portare gli attori in studio ho scelto di scrivere una sceneggiatura in cui le persone parlavano fra loro soltanto per messaggi vocali o per telefono che era quello che noi facevamo poi effettivamente durante la pandemia e questo rendeva facile la registrazione e giustificava che le registrazioni fossero un po' sporche e non fossero fatte in studio perché? perché era una telefonata quindi era giusto che fosse un po' disturbata ma io soltanto al telefono le potevo registrare perché dove andavo? quindi mi sono inventata questa strategia diciamo di scrittura e alla fine questo progetto che ho fatto veramente da sola un po' per vincere l'angoscia di quel periodo l'ho mandato così un po' per provare ma senza nessuna speranza nella sezione Rising Star del Prio Europa che è uno dei premi più importanti di audio in tutto il mondo e incredibilmente ho vinto nella sezione Rising Star poi l'anno successivo sono stata invitata per una settimana a Posdam che dove si teneva l'edizione finalmente di nuovo in presenza e ho avuto l'opportunità come premio di essere giurata nella sezione audio documentare del Prio Europa è stata una roba incredibile perché insomma ti confronti con i producer di tutta Europa e capisci che ci sono i problemi che ci sono i RAI sono i problemi che hanno in BBC anche se si tenderebbe a pensare di no ma in realtà sì è così le macchine dei broadcaster pubblici hanno tutti gli stessi limiti tutte le stesse forze aumentano i produttori indipendenti aumentano la qualità dei lavori indipendenti perché sono liberi da tante costrizioni però ovviamente non hanno abbastanza soldi per prodursi queste sono cose che tu riesci a capire quando ti confronti a livello internazionale quella è stata una cosa veramente molto bella poi ovviamente io ho andato a studiare a Londra e pensavo di rimanere a lavorare a Londra non credevo certo di tornare qua avevo appena cominciato a collaborare con la BBC quando si è scatenata la pandemia poi la RAI mi ha diciamo detto che mi avrebbe assunto a livello a tempo indeterminato e quindi e quindi eccomi qua sono tornata però adesso sono molto contenta perché posso fare quello che voglio quello che ho imparato all'estero posso fare nel mio paese tanta gente se ne va impara a rimanere fuori invece io insomma almeno posso essere utile qua adesso veramente basta però fatemi delle domande perché parlo da troppo tempo voglio poi davvero lasciare spazio però ci sono due cose che voglio chiederti perché sono un po' le due domande che fanno da sottofondo a tutto il ciclo degli incontri l'idea di dedicare il ciclo la rassegna di quest'anno al tema dell'informazione è partita anche e soprattutto da alcune considerazioni che abbiamo fatto tra di noi di Libera insieme a Serena e gli altri di Archicoltura sul tema della libertà tu l'hai accennato al termine di questo tuo intervento della libertà di stampa in senso lato quindi della libertà di chi fa informazione libertà che è soprattutto ovviamente rispetto al potere politico e quindi la possibilità di scrivere pubblicare diffondere con qualsiasi mezzo qualsiasi contenuto con i soliti limiti insomma del rispetto della privacy eccetera ma anche una libertà da un punto di vista economico perché il giornalista più o meno giovane più o meno freelance che non ha mezzi che viene pagato 2 euro 50 al pezzo o qualcosa del genere non è certamente libero ma sicuramente schiavo e poi il tema secondo me sempre più importante e credo sentito da tanti tuoi colleghi della libertà rispetto al timore sempre più fondato di essere denunciati querelati delle cause risaccitorie eccetera eccetera perché oltre alle minacce dei poteri mafiosi criminali o quant'altro c'è anche questo il pericolo il rischio che si concretizza sempre più facilmente leggevo l'altro giorno un post su facebook credo di Giuseppe Legato giornalista della stampa che si occupa della stampa di Torino che si occupa ormai da tanti anni di criminalità organizzata e ha fatto tantissime 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 inchieste insomma ha scritto tantissimo su questo tema e noi come Libera Piemonte abbiamo tantissimi rapporti con lui che raccontava di un'ennesima appunto denuncia querela o causa che è stata intentata contro di lui questo credo che sia una grossa limitazione della indipendenza della libertà di un giornalista quindi la domanda che poi è unica riguarda te personalmente nel senso se hai mai avuto problemi di questo tipo e in generale appunto cosa che idea hai sul tema della libertà declinato sotto questi diversi aspetti allora io personalmente non ho avuto problemi da questo punto di vista cioè non sono stata querelata ho sempre vissuto ogni cosa che ho fatto col timore che comunque so che prima o poi accadrà perché d'altronde querelano tutti è un dato di fatto è così addirittura l'altro giorno leggevo adesso non farò nomi per non farmi querelare anche in questa situazione che è stato querelato un giornalista anche molto importante conosciuto che se averlo dato è stato querelato per una sua deposizione in tribunale cioè siamo arrivati proprio a una rambafoglia una cosa incredibile cioè non è che lui ha detto delle cose non le ha scritte le ha dette sotto giuramento interrogato da un giudice incredibile e so che arriverà e peraltro proprio in questo momento sto scrivendo appunto questa puntata su Agostino e quella potrebbe essere una puntata molto delicata perché appunto gli ammutati non parla soltanto di cosa nostra vedete c'è questo fatto no che in Italia parlare di mafia è più facile di parlare di mafia è stato occulto questo non c'è dubbio ci sono delle vicende delle questioni quando vai a toccare certi punti certi poteri forti quando si parla del legame tra le mafie e la massoneria quando si ha non so io ultimamente mi sono molto avvicinata a degli iscritti non so di Fabio Repici che è questo avvocato straordinario che è l'avvocato di tutte le battaglie incredibili di questo paese da Nino Agostino a Stefano a Umberto Mormile suo fratello Stefano a Salvatore Borsillino non so per esempio appunto lui ha scritto i soldi della P2 il libro sulla falange armata mi è capitato in questi mesi di leggerli e presentarli con gli autori e lì ti accorgi veramente che a parte che la libertà non è di stampa non è una cosa che ha a che fare soltanto con i giornalisti ma con gli autori in genere perché per scrivere libri come quelli ci vuole fegato veramente penso che la libertà assoluta a livello proprio di stampa cioè per chi lavora in una testata è impossibile perché tutti abbiamo un editore e l'editore comunque sceglie la linea e tu sei libera sempre rispetto alla linea e se ci stai ci stai se non ci stai non ci stai te ne vai cioè non c'è scelta voglio dire puoi togliere la firma sì però poi succede poi succedono dei casini inarrabili per cui se io dite vabbè lavori in RAI dovresti essere libera no perché sappiamo che la RAI è lottizzata dai partiti e io mi chiedo ma perché non vi arrabbiate perché non vi arrabbiate perché i cittadini non si arrabbiano di questa cosa perché quando ci sono i balletti delle poltrone perché adesso la Meloni come prima di lei Draghi prima di lei insomma non perché la Meloni cambieranno i direttori del TG1 il TG2 Radio 1 ok è normale ma non è normale perché cambiando direttore continuamente ogni volta che cambia l'assetto del Parlamento non si riesce mai a visto che in Italia l'assetto del Parlamento cambia abbastanza spesso non si riesce mai a programmare nulla cioè non si riesce ad avere una visione a lungo termine perché i direttori vanno via perché sono nomine politiche e se anche uno è bravo perché puoi essere bravo anche se sei nominato da un politico poi a un certo punto te ne devi andare perché la tua forza politica non hai più di maggioranza a me questa cosa mi fa molto arrabbiare perché non riesci a fare un progetto con una persona che sta lì perché Radio 3 è Radio 3 perché Marino Silvivaldi è stato là per 11 anni voi ditemi un'altra testata a Rai dove un direttore è stato per così tanto tempo lui ha potuto costruire ha avuto il tempo di costruire perché Radio 3 è un'isola felice di cultura che la politica tendenzialmente lascia un po' perdere diciamo comunque non non ha delle grosse però a me questa cosa fa arrabbiare da giornalista e mi chiedo perché quando poi i giornali a un certo punto sono pieni di i nomi i totonomi allora se i giornali sono pieni di queste informazioni vuol dire che i cittadini sanno che i direttori in Rai si cambiano a secondo di chi amministra il Parlamento il governo eccetera ma allora questa cosa va bene? questa cosa è scontata? ma è così? e no non è così perché questo produce la mentalità mafiosa la mentalità corrotta no non è così cioè bisogna combattere perché non sia così perché questa cosa non garantisce che l'informazione sia un'informazione pulita per cui anche pulita nel senso come dire libera ecco cioè e allora parliamo di libertà di stampa ma viviamo in un paese in cui la lottizzazione del servizio pubblico è una regola cioè non è che fa è una regola e nessuno adesso sto facendo un comizio ma mi fa arrabbiare questa cosa perché il problema è che noi siamo dei privilegiati e questo è un dato di fatto chi lavora in Rai è un privilegiato perché io non guadagno due euro a pezzo e questo mi garantisce di non essere corruttibile perché ho uno stipendio e quindi se qualcuno mi offre dei soldi io posso rifiutarlo perché sono autonoma però nello stesso tempo non posso essere libera di avere un rapporto di un investimento con una testata perché con la testata secondo chi c'è il governo cambierà ok questa è una cosa che il sindacato della Rai Lucy Gray va dicendo da un millennio ma purtroppo le cose non cambiano e secondo me non cambiano perché i cittadini non hanno una coscienza reale di questa cosa cioè viene un po' sussurra ah sai il Rai cambieranno il direttore allora no cioè non è non è un gossip cioè è un fatto che influenza le nostre e le vostre vite quotidiane tutti i giorni poi è vero sì il Tg3 è un Tg3 è un Tg che guarda generalmente un pubblico che vota a centro-sinistra il Tg1 è un Tg generalista lo sappiamo però non è non credo che sia giusto dare per scontato che sia così nella mia visione nonostante sia giusto che la Rai possa offrire il pluralismo che merita questo paese perché è giusto che tutti le però la politica non dovrebbe avere niente a che fare con le notizie io credo e io ho una mia fede politica come penso che l'abbia ognuno di voi ma questo non influenza e non deve mai influenzare quello che io sto scrivendo quello che sto dicendo ma mai però assolutamente questo per me essere libera ma siamo liberi nella testa cioè essere liberi significa essere liberi nella testa e questo ti fa prendere le querelle sicuro prima o poi sicuro beh mi auguro e ti auguro di no ma se fosse insomma io faccio l'avvocato nella vita ricorda ottimo bello c'è già una mano alzata Cecilia Ghelli grazie di tutto io volevo sapere siccome lei è stata in Inghilterra com'è l'informazione veramente perché molte volte viene portata ad esempio l'informazione inglese come diciamo così più libera tra virgolette indipendentemente dalla dalla politica insomma è vero questo è un po' una favola è una favola credo che sia una favola la ringrazio per la domanda innanzitutto credo che sia un po' una favola perché ci serve avere dei punti di riferimento felici fuori lontano da noi no? perché è una sorta di rassicurazione che da qualche parte le cose vanno meglio beh ci sono delle testate straordinarie in Inghilterra come il Guardian in cui posso dirle assolutamente sì è così per quanto riguarda la BBC io ricordo ma questo glielo dico non dal giornalista da cittadina che io vivevo ero a Londra quando è scoppiata la pandemia e a Londra in quel periodo c'era l'amministrazione Johnson penso ve lo ricordate un po' tutti che ha gestito i primi mesi della pandemia in un modo folle e ricordo che la BBC è cioè semplicemente era il megafono del governo cioè non era i primi giorni io leggevo la BBC per capire cosa stava succedendo nel paese in cui vivevo ed era un po' un po' delusa mentre il Guardian già era più critico eccetera io non ricordo grandi prese di distanza da parte della BBC per cui poi alla fine cioè è un po' il problema il limite del pubblico questo sì probabilmente la cosa che ho imparato che posso riportare è che la deontologia professionale in Inghilterra è più forte nel senso che io ho fatto un esame di media law che è stato difficilissimo forse la cosa più difficile dell'assoluto perché devi studiare tutta la giurisdizione riguardo l'informazione però in un paese dell'Inghilterra e quindi che ha un modo proprio di non ha la costituzione eccetera eccetera e lì sono severissimi cioè se tu fai un errore sei fuori cioè insomma è pesante sbagliare non devi sbagliare devi stare molto attento tutto il trattamento che devi avere rispetto alle persone vulnerabili minori eccetera eccetera sì è vero in Italia abbiamo la carta di Treviso le varie carte però posso dire che io sento delle cose raccapriccianti vedo e leggo delle cose raccapriccianti allora io ho ricevuto una censura dall'ordine dell'Umbria a cui sono iscritta perché non ho fatto abbastanza crediti formativi no vabbè perché non ho avuto il tempo sinceramente di farli persone che mandano in onda immagini terribili di bambini o di donne stuprate eccetera non hanno nemmeno un richiamo da parte dell'ordine allora dico ma l'ordine a che cosa serve è ovvio che l'ordine dei giornalisti dovrebbe servire principalmente per la deontologia ma ho la sensazione che penso chiunque possa darmi ragione per buon senso che il livello di ontologico del giornalismo italiano sia molto basso e questo in Inghilterra non è così ci sono i tabloidi che ovviamente sì sono anche loro molto così sciatti però i giornali la BBC il Guardian il Telegraph eccetera eccetera sono molto molto attenti perché sono molto molto severi molto più di qua dove non ti richiamano mai se non perché non fai i corsi c'era un'altra domanda credo di Gianluca forse sì Gianluca vai ciao buonasera a tutti grazie dunque vorrei collegarmi al discorso dei servizi segreti anche perché l'altro giorno è venuto poi va da Luigi De Magistri se anche lui cioè lui ha parlato delle della massoneria delle massomafie no? e il discorso secondo me può essere anche collegato al fatto che come diceva la Paola la mafia sembra che sia sparita no? è come se forse ci sia un anello di collegamento tra le istituzioni e la mafia che sia un anello diciamo legale tra virgolette autorizzato che può essere allora cioè che ha un aspetto di segretezza quindi i servizi segreti sono segreti per definizione la massoneria anche ha un aspetto di segretezza però ha un aspetto anche presentabile pausibile diciamo legale autorizzato e quindi questa ambiguità dei servizi segreti e della massoneria può essere proprio quell'aspetto che permette di fare da collegamento tra la mafia e le istituzioni ora mi chiedo se per esempio i servizi segreti e o la massoneria perché poi si dice ma no ma sono servizi segreti deviati no ma la massoneria sono quelle deviate ma qual è allora il limite tra i servizi segreti normali e quelli deviati qual è il limite tra la massoneria normale perché dico i servizi segreti rispetto alla carta universale di diritto dell'uomo sono vincolati o sono vincolati soltanto alla ragione di stato poi per la massoneria uguale sono vincolati a cosa a interessi privati e quindi questo stare tra la legalità e la segretezza senza un riferimento preciso chiaro sinceramente non lo so le regole di ingaggio dei servizi segreti quali siano perché sono segreti vabbè mi fermo qui anche comunque De Magistris ha detto che quello lì è proprio il centro delle sue vicissitudini è un po' quello lì perché poi quando si trova si è trovato a avere a che fare con queste questi diciamo personaggi questi questi poteri che stavano nelle istituzioni per usare le istituzioni con una finalità diciamo oscura comunque non del tutto chiara sì il problema è la domanda che lei ha fatto è una domanda sacrosanta che mi faccio tutti i giorni purtroppo non c'ho la risposta qual è il confine tra servizi segreti e servizi segreti deviati non lo sa nessuno il problema è questo che non lo sa nessuno ed è difficilissimo arrivare a delle risposte certe da un punto di vista giudiziario cioè il processo Agostino è un processo l'omicidio Agostino è un omicidio del 1989 cioè siamo nel 2023 e abbiamo una condanna di primo grado in giudizio abbreviato per l'inomadonia è un processo ritordinario a Gaetano Scotto ancora in corso ed è il 2023 e la condanna per l'inomadonia è arrivata nel 2021 cioè nessuno dei due peraltro sono esponenti dei servizi sono due esponenti di cosa nostra sia madonia che scotto particolarmente legati la famiglia della famiglia delle suttana è legata notoriamente ai servizi deviati ma perché non si arriva mai alla perché i processi si fermano sempre alla causale mafiosa perché cioè e questa è la cosa incredibile e nonostante per esempio il processo di Agostino sia uno di quei processi che non si ferma alla causale mafiosa perché dice che una c'è che una delle ragioni della morte dell'uccisione di Agostino e sua moglie è stata proprio l'opacità va cercata nell'opacità nei tentativi di depistaggio eccetera eccetera dell'ambiente della polizia della squadra mobile del commissario San Lorenzo di Palermo nonostante questo non c'è nessuno imputato per questa cosa di quella fascia lì di persone allora se abbiamo delle condanne per le stragi del 92 ma sono tutti di cosa nostra ma di che c'è vuol dire che la causale esterna è una causale che esiste esiste ancora un processo pendente che il GIP se non sbaglio di Caltanissetta ha l'anno scorso in giugno imposto che venisse appunto prolungate le indagini ma i PM avevano richiesto l'archiviazione sulle causale esterne delle stragi perché cioè le causale esterne delle stragi ovvio che stiamo parlando dei servizi no perché si chiede sempre l'archiviazione perché non si arriva mai perché l'unica volta in cui si è arrivati alla strage di Bologna era perché gli imputati erano morti e quindi non erano imputabili perché io non ho delle risposte ho dei sospetti e credo che sia importante da parte del giornalismo non fermarsi soltanto alla superficie cercare di raccontare i rapporti tra i servizi e la mafia credo che sia il modo migliore per far sì che questa cosa diventi prima o poi anche una verità giudiziaria mi dispiace non ho una risposta migliore però la penso come lei ci sono altre domande ma io volevo chiedere una cosa riguardo al cioè al fatto che vedo oggi molto spesso che si tende a inseguire non tanto la notizia di qualità ma quella che fa più più audience che cattura più le persone e questo porta anche a far scadere un po' di informazione cioè come si fa da giornalista a selezionare bene le notizie e riuscire da un lato a dire preferisco concentrarmi su una notizia che magari cattura meno persone ma che secondo me è una qualità migliore o piuttosto rinunciare a una notizia che invece magari è una qualità minore o è mezza mascherata e non è una notizia limpidissima o è messa in modo tale da attirare la gente però in questo modo riesco a ottenere più spettatori e che in un'ottica anche comunque di lavoro cioè di visibilità è necessaria cioè come si fa a mettere insieme le due cose allora tanto per cominciare non le metto insieme io perché io sono una redattrice purtroppo anzi no per fortuna le redazioni sono dei posti molto gerarchici cioè le decisioni non le prende mai io sono l'ultima nella catena nel senso sono una giornalista ehm chi quali notizie dare è una cosa che dipende da capi redattori e direttori quindi è una decisione che spetta a loro rispetto a la linea editoriale ok quindi probabilmente il Tg1 darà delle notizie il Tg2 darà delle notizie il Tg2 darà delle notizie generalmente hanno tutte le stesse notizie in un modo diverso allora cos'è che si può fare difficilmente si può non dare una notizia perché rischi di prendere il cosiddetto buco per cui anche se tu non la ritieni fondamentale la dai il problema non è se la dai o non la dai il problema è quanto spazio gli dai cioè se tu hai una scaletta di 10 pezzi devi riuscire a cioè la linea editoriale è come un filo rosso che avvolge quella scaletta cioè come riempire quei 10 pezzi allora secondo di come tu li riempi il giornale che tu fai il telegiornale il giornale radio o il giornale stessa cosa è diverso perché anche semplicemente lo spessore lo spazio che tu dai a una notizia fa la linea cioè da un allora io posso parlare di Matteo Messina Denaro per 5 pagine ok da fare 5 servizi su Matteo Messina Denaro e uno su adesso non so non mi viene in mente la lite tra chi sono che ha Shakira con chi è che si era litiga non mi ricordo più non le so benissimo queste cose c'era un fatto di un gossip no cioè è ovvio che oppure esatto no è ovvio che una persona sarà di mente tra le due cose però adesso io ho esagerato certe volte il confine è un po' più labile perché Shakira è facile decidere quando si fanno per esempio tanti pezzi di politica secondo me cioè fare un telegiornale con 5 pezzi di politica in cui si dice quello che dice Forza Italia quello che dice il PD quello che dice 5 Stelle quello che dice facciamone due in cui diciamo la maggioranza è l'opposizione così abbiamo spazio per raccontare anche altre cose che non significa raccontare altri temi significa anche prendere una legge e approfondirla perché non lo facciamo mai tu senti mai in un telegiornale un disegno di legge a parte la finanziaria che è quella difficilmente questo dicevo prima del gastro allostativo nessuno l'ha spiegato eppure è una cosa importante quella che è successa in Parlamento allora per tornare alla tua domanda non si può ignorare un evento anche se tu lo ritieni diciamo inconsistente perché altrimenti prenderesti un buco e comunque tu lo devi dare cioè tu la notizia la devi dare puoi però dare uno spazio diverso rispetto a quello che tu ritieni meno importante quello sì perfetto grazie mille grazie a te a lei scusi sì scusa io ti ho dato del tuo no 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 ma ha fatto bene sono io che per la tua giovane età mi ha ingannata scusate grazie 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 a proposito di libertà a proposito di libertà come vede diciamo si è parlato si parla anche del fatto che i giornalisti soprattutto se non raccontano diciamo le solite notizioli ma raccontano cose importanti e significative possono essere denunciati nel caso per calunnia se non sbaglio nel caso vadano a scoprire o riferire delle conversazioni a proposito delle intercettazioni io ho sempre visto un'intercettazione come un elemento importantissimo insomma per andare a trovare certe cose che non vanno oppure assassini e ferrati e tutto però mi chiedo a me preoccupa un po' questa cosa perché io io capisco che se si racconta non so che si riporta la telefonata di due che magari sono collaterali alla persona di cui si sta su cui si sta indagando e questi parlano della spesa o della loro relazione amorosa voglio dire non c'entra niente però mi sembra che ci sia un po' un accanimento su questo su questo aspetto non so se sono stata chiara no no ho capito perfettamente quello che dice Cecilia allora io credo che ci sia un accanimento in questo momento forse anche politico sulle intercettazioni in generale però non aprirei adesso la questione Nordio perché anche questa è stata abbondantemente dibattuta dai media dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro io allora il punto è questo noi giornalisti dobbiamo rispettare delle regole che sono abbastanza ferre no sulla diffusione delle intercettazioni e se non le rispettiamo possiamo essere indagati diciamo o accusati di rivelazioni di segreto perché? perché le intercettazioni sono sempre documenti no giudiziari allora ci sono dei momenti diciamo in cui è possibile pubblicarle dei momenti della fase processuale qua Paola potrà darmi ragione dei momenti della fase processuale in cui è possibile pubblicare un documento e per esempio è possibile pubblicare un documento quando il documento è già noto diciamo anche alla parte coinvolta in fase di indagine ovviamente io non posso pubblicare le intercettazioni se anche le ce le ho perché uno brucierei l'indagine e due perché probabilmente l'indagato non è a conoscenza quindi è il mio dovere diciamo proprio giudizio come dire di legge ma anche di ontologico non farlo io sono convinta che pubblicare le intercettazioni sia fondamentale nel racconto di certe questioni e a maggior ragione per me che faccio audio poter pubblicare cioè l'audio di alcuni che è ancora più forte no? perché senti le voci e spesso dalle voci sai io una volta ho fatto stavo preparando un'inchiesta per report e stavo leggendo non so quante pagine di intercettazioni su un personaggio in particolare che lavorava a live indagato mi pare per corruzione non mi ricordo più è il passato di un sacco di anni e mi ricordo che ci impiegai tipo tre giorni per leggere una roba in Orbega era così e dovevo selezionare quelle più importanti da utilizzare in puntata alla fine di questa cosa io avevo la sensazione di conoscere quella persona come se fosse mio parente perché leggendo le intercettazioni e sentendolo parlare con la moglie con l'amante col collega col figlio a un certo punto ti pare di conoscerla con la persona perché attraverso quello che dice tu senti anche capisci anche come è fatta una persona a livello intimo o privato ecco mi chiedo se forse certe volte non dovremmo avere un po' di accortezza cioè è giusto usare le intercettazioni quando raccontano un contesto criminale ma forse alcune volte calchiamo un po' la mano e dovremmo avere comunque rispetto per le vite private delle persone anche se sono persone che hanno probabilmente non rispettato la legge d'altronde tutti hanno diritto a un giusto processo e anche a essere trattate come persone non come bestie anche criminali questo credo quindi farne uso sì ma pensato ancora ragionato grazie pensavo magari da parte degli studenti se ci possa essere qualche domanda qualche curiosità sono poi loro che si affacciano in modo più intanto vedo una mano alzata di Valentina adesso ti lascio subito la parola però sono gli studenti a cui arrivano poi le informazioni che le accolgono in un modo più ingenuo nel senso migliore del termine quindi non certamente svilente però sono quelli che si devono confrontare con notizie che arrivano da più parti e con voci differenti devono orientarsi e forse hanno gli strumenti hanno meno strumenti per poterlo fare se magari da parte loro ci fosse qualche curiosità nel frattempo lascio la parola a Valentina grazie Serena io ho una curiosità fare un'intervista a un personaggio cioè lei ha mai avuto dei pregiudizi prima di intervistare qualcuno di non so viene in mente quando io per esempio per la scuola ho l'opportunità di intervistare qualcuno riguardo sempre la mafia devo dire la verità che certe volte sono condizionata da quello che sento da quello che ascolto da quello che so lei mai è capitato di sentirsi in difficoltà di avere dei pregiudizi prima di un'intervista e che tipo di approccio ha con con questi personaggi non so non so se sono stata chiara ma lei intende i personaggi di che genere perché poi dipende da chi per esempio vorrei fare nomi io veramente sono un po' in difficoltà cioè qualcuno che magari è stato indagato oppure lei lo sa che in questo in quest'ambiente ci sono vanno uno contro l'altro quindi magari uno dice che mi è successo mi è successo più volte mi è successo mi fa venire in mente due cose io non so se sono stata chiara però vorrei essere più esplicita però non riesco non riesco no 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 ho capito ho capito allora mi è successo di intervistare delle persone che hanno avuto dei grossi problemi con la giustizia ok nel senso che erano colpevoli di reati mafiosi probabilmente sì e se avevo dei pregiudizi no perché non mi interessava averne nel senso che ero troppo curiosa cioè per me intervistare una persona che fa parte di quel mondo è troppo più interessante di uno che invece non fa parte perché con quelli che non fanno parte mi ci confronto continuamente invece gli altri mi interessano proprio a livello anche culturale antropologico cioè voglio capire come la pensano voglio sentire il loro punto di vista cioè mi se andassi là col pregiudizio mi priverei di una conoscenza che loro possono darmi molto più grande rispetto a cioè come dire confrontarsi con i propri simili è sempre più facile perché ti senti nella tua comfort zone sai che però poi a un certo punto dopo un po' lo stimolo è finito perché sai che ti dici sempre più o meno quando ci si parla un po' addosso quando invece entri in certi contesti è bellissimo cioè per me le interviste più belle sono state interviste a persone appunto di cui probabilmente non condividevo ecco per esempio i collaboratori di giustizia si sa sono collaboratori di giustizia sono in carcere è quello che hanno fatto quindi noi lavoriamo noi lavoriamo con i collaboratori di giustizia infatti quelli non è che abbiamo dei pregiudizi in quello a fare delle domande con i ragazzi eccetera eccetera no io intendo tipo persone autorevoli che comunque hanno sì e là ti devi un po' tattare il naso sì sì è anche divertente è anche divertente è divertente cioè nel senso cioè io sarei quasi forse poi l'hai un fatto di personalità a stuzzicarli un po' fin dove si può arrivare dipende perché stai lavorando cioè se lavori per report li devi stuzzicare anzi le interviste tra virgolette che fai alle persone insomma per tra virgolette far venire fuori certe cose insomma non proprio giuste che hanno fatto sono quelle più belle e quelle più importanti no? come dice Sigfrido la domanda più importante è sempre la seconda perché la prima è banale la seconda è quella in cui poi cerchi di mi è successa una cosa che vi racconterò senza fare nomi perché non è carino nonostante se lo potrebbe anche meritare mi è successo per un periodo della mia vita mentre lavoravo la venerdì di Repubblica ero molto giovane è successo quasi dieci anni fa avevo 27 anni 26 anni e lavoravo per una televisione calabrese io sono calabrese che però aveva bisogno di una videomaker e giornalista che lavorasse su Roma e seguisse la politica parlamentare e la giudiziaria cioè tutto quello che succedeva della Calabria in Parlamento io lo dovevo seguire sostanzialmente perché ogni settimana andavo a fare queste interviste a dei parlamentari calabresi e allora io forse un po' troppo giovane sono andata a fare un'intervista a a una parlamentare calabrese e l'ho fatta come mi veniva di farla cioè mettendola in difficoltà su certe cose che mi sembravano fossero totalmente coerenti il giorno dopo il direttore mi ha telefonato e mi ha detto che quella persona aveva chiamato per farmi per chiedere il mio licenziamento ed è stato simpatico perché lei mi aveva mandato un messaggio per farmi complimenti prima e dopo mi ha chiamato l'editore per chiedere il mio allontanamento dalla redazione e in quel caso poi il direttore era un grande giornalista un grande uomo si mise in mezzo e disse se Michele aveva licenziato mi licenzo anch'io però questa cosa mi fu è ovvio che se dai fastidio a certi circoli di potere ne subisci un po' le conseguenze poi se anche mi avessero licenziato non avrei perso il lavoro della vita in quel caso però crescendo poi impari anche un po' la diplomazia e impari a fare le domande magari le domande che mettono in difficoltà anche in maniera più attenta più sottile credo che la seconda domanda comunque in qualunque posto tuo lavoro la tua la debba fare sempre sempre però ti crea un sacco di problemi ma non fuori dentro il posto in cui lavori di solito è difficile che venga sempre compresa perché d'altronde non farla è più facile cioè non hai problemi però mi è successo tante volte di avere a che fare con personalità un po' più di di spicco e che sapevo essere insomma cercavo di a seconda del posto in cui mi trovavo mi rivolgevo perché tu non sei mai a meno che non sei una freelance appunto però quando lavori una testata devi sempre pensare come penserebbe la testata purtroppo è così spero di essere stata mi piacerebbe poi approfondire no magari un'altra volta su determinate cose io non sono una giornata mentina invita la mi incontro con i tuoi ragazzi ah ma sicuramente si chiama è il secondo anno che facciamo noi giornalisti coraggiosi quindi poi magari le mando una mail le spiego molto volentieri davvero grazie grazie a lei comunque in attesa di un'altra domanda volevo dire questo il coraggio non deve essere mai spavalderia cioè il coraggio è intelligenza perché poi farsi tabula rasa intorno non serve mai perché quando si è isolato non si lavora più bene quindi bisogna sempre fare le cose con un certo buon senso credo forse Gianluca riesco a rialzare la mano si si possa fare la seconda domanda a me è venuto in mente già che lo spunto se è mai capitato nel suo percorso di toccare con mano nell'ambito dell'informazione insomma a certi livelli l'occasione di di incontrare persone legate a determinati circoli che permettevano di entrare a livelli superiori di aprire determinate porte per accedere a carriera diciamo livelli di carriera più elevate possibilità di accesso a un potere superiore dal punto di vista dell'informazione perché penso che ci siano poteri che vogliono manipolare soprattutto per i legami che si sono con la politica informazione e allora credo che che loro mi evitino come la peste cioè non penso che sarò mai avvicinata da qualcuno che mi vuole promettere ascensori diciamo di carriera grazie alla politica perché tanto cioè io credo sempre che se sei in un modo come professionista come persona è una cosa che tu trasmetti immediatamente no per cui è difficile che intorno a te ti possano fare minimamente delle proposte se capiscono come sei perché capiscono che tu una roba del genere non la faresti posso cioè non la prenderesti nemmeno in considerazione per cui le persone non si avvicinano a te con quell'intento posso dirle che ho conosciuto tante persone che invece erano molto diciamo più inclini a a voler fare carriera e a non farsi diciamo problemi ma banalmente cioè semplicemente non si creavano ci facevano le 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 cioè ci sono modi e modi di fare il giornalismo adesso se mi permettete una parolaccia giusto per citare il film di Siani le notizie su Rutture Gats cioè dare le notizie è è un problema spesso quando non le dai sei piace a molti e quindi è facile che tu venga cooptato se invece sei uno che queste rotizie le dà vieni comunque di base tollerato ma difficilmente portato all'apice ecco credo che sia un po' così soprattutto in certi contesti dove la politica conta molto però io sono sempre convinta che è ovvio che avere delle posizioni di potere è bello perché quando hai potere puoi cambiare le cose però sono anche convinta che le posizioni di potere con molta molta ma molta più fatica si possano ottenere anche senza senza cooptazioni però ci vuole molta molta determinazione cioè devi avere una pazienza infinita a livello proprio caratteriale perché devi devi ingoiare tanti rospi ecco quello sicuramente sì questo è un mondo perché l'informazione fa gola a chiunque l'informazione è potere e quindi il potere la vuole controllare se tu non fai parte di questo meccanismo è difficile proprio stare al mondo però se poi ne fai una scelta insomma io ci campo abbastanza bene nel mio mondo del mio modo mondo però sono in una stanza da sola e faccio una cosa che faccio da sola ce ne pago comunque un po' le conseguenze di questo sì come forse diceva Calvino c'è un modo di salire che non è un salire ad ogni modo esatto proprio quello è una frase stupenda credo che sia così come è in tutte le cose nell'informazione è molto più è molto devi trovare il tuo il tuo modo per io adesso mi sento la persona più fortunata del mondo quando mi sono trasferita i podcast molti colleghi mi hanno fermato nel corridoio mi hanno detto ma come mai una come te che ormai era la una delle voci più ascoltata nel GR te ne vai lì come se andassi in soffitta in realtà per me l'approfondimento incide molto di più però vai a spiegare io ero contenta quello che per me è una cosa diciamo migliore per gli altri è una roba evidente che c'è un problema una percezione diversa delle cose però va bene così anzi meglio così non ci vuole andare nessuno ci vado io dove gli altri ritengono di non essere abbastanza visibili perché poi c'è questa roba della visibilità nel giornalismo che devi essere visibile come se andare in voce 20 volte e invece e magari dire 20 volte la stessa cosa non è meglio andare una volta sola e dire una cosa sola una volta sola penso di sì credo di sì almeno per il mio punto di vista sì io non vorrei togliere la parola e lo spazio a nessuno però ho ancora un non una curiosità un una domanda proprio da fare a Michela siamo come dire sommersi dalle notizie dall'informazione con ogni mezzo soprattutto adesso penso non so quanti studenti siano collegati vedo solo delle facce di persone più o meno anziane come me credo soprattutto penso ai ragazzi che in particolare ricevono le loro informazioni dai social media dai internet eccetera e quanta possibilità abbiamo di difenderci dalle cosiddette fake news se ci sono degli strumenti insomma degli accorgimenti capisco che è una domanda da 100 milioni di euro alle sette e mezza di sera però per discernere un pochino no fare un po' di distinguo in questo mole enorme di informazioni e di disinformazioni beh sì credo che ci siano degli accorgimenti banali tanto per cominciare controllare la fonte della notizia quello è la prima cosa no perché voglio dire topolino.it forse magari lasciamo stare già se una notizia è data da una testata quantomeno riconosciuta che sia che ne so l'Ansa o l'Agi parlo di agenzie o di N.Cronos oppure Repubblica Corriere Fatto Quotidiano non so libero adesso per essere così pluralista però già questo capisci che c'è un dovrebbe almeno esserci un minimo di lavoro giornalistico perché una testata che ha degli obblighi di legge sulle verifiche eccetera questo già ti aiuta a combattere le fake news poi io ho una mia diciamo dieta informativa io non guardo la tv perché mi annoia da morire e ascolto la radio la mattina cioè mentre vado al lavoro cioè mentre vado in radio ascolto la radio mentre magari mi sto preparando quando sto in macchina sempre perché comunque sono abbastanza lontana dal posto di lavoro e ascolto molti radio podcast e questo è un modo di informarmi che mi piace ascolto molto radio 3 devo dire la verità soprattutto per al mattino quando per l'informazione e ascolto i GR e ho una mia un paio di testate di riferimento che non mi piacciono che non mi piacciono però non ho scelto perché qualcosa devo leggere però non ce n'è una in particolare che 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 sceglierei in questo momento storico diciamo del giornalismo italiano ho cambiato adesso non voglio dire perché non è bello però ho cambiato un abbonamento ne ho fatto un altro ai siti insomma dei giornali più importanti però ancora non sono molto soddisfatta quindi credo che scegliere sia importante cioè non farsi inondare dall'informazione cioè l'unico modo in cui a quel punto abbiamo diciamo l'effetto valanga sono i social cioè nel momento in cui uno scrolla facebook e twitter e via dicendo è ovvio che lì si è un po' bombardato dalla qualunque allora meno scrollo più giardinaggio meno scrollo più podcast documentari meno scrollo più altro no passeggiate così cene con gli amici e quello sicuramente perché danneggia perché quello è un modo in cui tu non scegli l'informazione ed è perché è tutto uguale cioè quello che arriva alla stessa dignità sulla home di facebook dico penso poi decidi di aprire quello che ti pare ovviamente però i titoli li legge di ovunque quindi io cioè secondo me uno si deve scegliere deve fare un atto di democrazia perché è un atto di democrazia di responsabilità verso questo paese verso se stesso cioè verso questo paese inteso un mondo non un Italia e scegliere come informarsi quindi scegliere dei momenti della giornata e dei canali che si ritiene adeguati e usarli e delimitare l'informazione a quel momento perché se ci lasciamo invece invadere in tutti i momenti a parte che ci viene l'angoscia perché è un catastrofe continua mi viene l'angoscia a me che faccio la giornalista e dovrei avere un po' di filtro però io c'ho sempre questa cosa catastrofica ultimamente dalla pandemia in poi perché io mi sono resa conto che in pandemia leggevo mille volte di più giornali rispetto a prima perché volevo sapere come tutti noi che cosa stava succedendo avevo bisogno di qualcuno che mi desse delle notizie su delle cose che non erano mai accadute per cui non avevo un precedente per interpretare la realtà avevo bisogno che qualcuno la interpretasse per me allora lì ho capito che dovevo farlo in certi momenti della giornata mai prima di andare a dormire mai cioè non leggere il giornale prima di dormire leggendo un bel libro ma perché se no ti viene la subisci l'informazione invece essere dei cittadini attivi e scegliere quando i momenti giusti e dove ognuno secondo le sue preferenze con delle fonti autorevoli che possono essere appunto il giornale di cui ho detto è il servizio pubblico o la 7 insomma vedete voi ognuno poi ha le sue preferenze perché penso che Mentana faccia comunque un ottimo telegiornale almeno che spiega cioè si fa questa cosa straordinaria che spiega le cose che dovrebbero fare tutti i giornalisti no? perché noi dovremmo scomparire davanti le notizie e dovremmo soltanto essere un filtro per spiegarle alle persone però a certe volte spiegarle è faticoso quindi le diamo e basta non serve a niente perché nessuno ne capisce ci parliamo fra di noi però ecco scegliere i momenti scegliere le fonti e non farsi non farsi come dire sopraffare sopraffare perché perché altrimenti la notizia diventa merce già lo è invece dobbiamo sceglierla in maniera consapevole credo almeno io faccio così per me spero Paola di essere stata utile sì personalmente io adottavo già una serie di accorgimenti che tu hai hai suggerito credo che per i più giovani sia molto molto più difficile perché sono nati con un uso dei social della rete ma la rete può essere anche molto interessante perché ci sono diciamo i punti però è anche appunto molto pericolosa è pericolosa perché si confonde cioè il giornalismo ha delle caratteristiche ed è fatto da professionisti che hanno lavorato studiato per diventare giornalisti hanno imparato delle regole non tutti possono scrivere e purtroppo i social hanno aperto alla diffusione delle notizie un po' a tutti quanti ma magari tizio non verifica prima di scrivere perché non ha l'obbligo della verifica non ha studiato che bisogna verificare però quella roba la scrive e io ci credo però io mi devo fidare di quella persona cioè la persona che io leggo può anche essere un blogger non dico di no però deve avere autorevolezza ok? si deve essere creata un'autorevolezza non posso utilizzare e fruire tutti i contenuti come se fossero tutti degni di valore perché la rete è piena di robaccia e ha poche cose interessanti ci sono però sono poche bisogna stare attenti a saperle selezionare ma io credo che se non ci sono altre domande ma ne alzate non ne vedo e vedo invece che qualcuno ha già lasciato l'incontro giustamente perché insomma è quasi ora di cena mi piace anche molto chiudere sulla tua penultima riflessione non quest'ultima di adesso quando hai richiamato alla responsabilità che abbiamo al dovere che abbiamo come cittadini di informarsi perché l'informazione è lo strumento principale che abbiamo per formarci un'opinione questo credo che sia non esiste la formazione di un pensiero di un'opinione di una proposta politica mi sembra che fosse conoscere per deliberare era questa la frase di Enaudi vero? mi sembra che sia la frase il motto di Radio Radicale se non sbaglio questo non lo so ma è senz'altro come dire il presupposto necessario non forse non sufficiente ma necessario per per prendere delle decisioni per formarsi delle opinioni non necessariamente su tutto perché per tornare alla pandemia quando quando eravamo tutti virologi infettivologi e scienziati francamente abbiamo rasentato il ridicolo no? quindi non è necessario che tutti ci formiamo un'opinione e poi esprimiamo questa opinione su qualunque argomento io rivendico anche il mio diritto di continuare a non sapere niente di fisica quantistica di vivere bene lo stesso però sulle cose fondamentali del nostro vivere insieme le scelte fondamentali che la politica deve fare che il governo deve fare che l'amministrazione del nostro comune deve fare dobbiamo avere un'opinione e far sentire la nostra voce ma per poterlo fare dobbiamo prima essere ben informati su su quell'argomento su quel tema e direi appunto che possiamo chiudere cosa dici Serena? si si anzi mi unisco alle tue parole perché la riflessione è proprio per ultima in realtà su fake news sulle modalità utili per informarsi credo che sia particolarmente urgente oggi è particolarmente urgente per per chi ha a che fare con i giovani oggi sono collegati molti studenti e molti insegnanti credo che sia questo un 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 argomento su cui riporre la massima attenzione e su cui insistere proprio per tentare di eliminare tutte le scorie che possono confondere e possono creare poi disinformazione che è un po' la nostra una delle piaghe maggiori di internet oggi quindi grazie anche per per questa riflessione su questo se non ci sono altre domande possiamo rinnovare l'appuntamento per con il ciclo di incontri per il mese prossimo e ringraziando di nuovo Michela Mancini per le tante e interessanti riflessioni che che ci ha sottoposto questa sera non so Paola se non appunto anch'io ringraziare moltissimo Michela che sono felice di aver ritrovato andrò a sentirmi la prima puntata dedicata a Nino Agostino quella su Nino Agostino è in produzione ci vorrà un po' adesso c'è la prima sulla piattaforma su replay sound e gli ammutati basta scrivere gli ammutati e c'è la prima puntata già subito l'ho già trovata ma non ho ancora avuto il tempo di sentirla quando esce quella su Nino Agostino perché quella è una vicenda che seguo ti terrò aggiornata perché adesso devo farne 3-4 insieme prima di farle uscire di aver guardato